Si tratta di uno studio di fase 3 randomizzato in cui i pazienti con tumore della prostata metastatico venivano randomizzati a ricevere il trattamento con darolutamide alla dose di 600 mg due volte al giorno oppure il placebo fino a progressione di malattia. L'elemento importante di questo studio è che i pazienti dovevano iniziare il trattamento in corso di docetaxel e in corso di terapia androgeno-deprivativa e quindi rientravano all'interno di questo studio tutti quei pazienti candidati all'inizio del docetaxel e con un buon performance status che doveva essere tra 0 ed 1. L'obiettivo primario dello studio era dimostrare un vantaggio in termini di sopravvivenza e tra gli obiettivi secondari vi erano il tempo allo sviluppo della malattia resistente alla castrazione, il tempo allo sviluppo di eventi scheletrici sintomatici e il tempo al peggioramento del dolore e ovviamente nella safety. Più di 1300 pazienti sono stati randomizzati con rapporto uno a uno a ricevere darolutamide oppure placebo e se andiamo ad analizzare la popolazione inclusa all'interno dello studio noi abbiamo che l'85% dei pazienti aveva un tumore metastatico de novo, gli altri invece erano pazienti che avevano un tumore potremmo dire progrediente e per quanto riguarda l'estensione della malattia l'80% di pazienti aveva metastasi osse, un 14% metastasi viscerali e un 3.5% dei pazienti aveva metastasi linfonodali non locoregionali. Da un punto di vista dei risultati lo studio è uno studio fortemente positivo in quanto ha dimostrato un vantaggio statisticamente ma soprattutto clinicamente significativo a favore di darolutamide. Mentre la mediana non è stata raggiunta per darolutamide questa era di 48.9 mesi per il braccio di placebo con un zarrescio di 0.675 che corrisponde a una riduzione del rischio di morte del 32.5%. Ma se andiamo ad analizzare meglio la curva di sopravvivenza l'elemento veramente impressionante che queste curve si aprono già dopo i primi sei mesi dall'inizio dello studio dimostrando come il vantaggio sia immediatamente percepibile e le curve rimangono sempre bene aperte e distanziate durante tutto l'evolversi del follow up. Un altro elemento estremamente interessante sono i trattamenti successivi nei pazienti che procediscono al trattamento sperimentale. Abbiamo infatti come 75% dei pazienti nel braccio di placebo abbia ricevuto trattamenti successivi rispetto solo il 56% di pazienti trattati nel braccio di darolutamide. Questo è un elemento importante perché significa che intervenire presto con un'intensificazione di terapia è sicuramente una strategia vincente che permette di aumentare la sopravvivenza di questi di questi pazienti. Se andiamo poi a guardare gli obiettivi secondari abbiamo un vantaggio anche per il tempo allo sviluppo della malattia castration resistant. In questo caso l'azar ratio era di 0.36 così come abbiamo anche un vantaggio per quanto riguarda il tempo allo sviluppo al peggioramento del dolore con un azar ratio di 0.79. Da un punto di vista di safety questo studio è estremamente importante perché conferma l'ottimo profilo di tollerabilità della darolutamide che è sicuramente uno dei migliori antiandrogeni nuova generazione che noi abbiamo a disposizione per il trattamento del tumore della prostata. Infatti non abbiamo rispetto al placebo un aumento significativo degli eventi avversi sia di tutti i gradi che di alto grado ma soprattutto un elemento importante è che il numero di pazienti che sono riusciti a completare i sei cicli di docetax era assolutamente identico nel braccio di pazienti trattati con duranutamide rispetto a quello trattati con placebo. Questo a significare che non si ha un'interazione negativa del farmaco rispetto alla chemioterapia e questo era già risaputo ma è stata un'ulteriore importante dimostrazione nella pratica clinica. In conclusione lo studio Aracens dimostra come darolutamide sia in grado di aumentare in maniera statisticamente e clinicamente significativa la sopravvivenza dei pazienti con tumore della prostata metastatica alla diagnosi. In particolar modo l'evidenza dello studio Aracens si unisce a quella di un altro studio PIS-1 che va a supportare la necessità di trattare in maniera intensa i pazienti con questo esordio di malattia ovvero con la tripletta formata dalla terapia androgeno-depivativa dal docetaxel e dal antiandrogeno di nuova generazione. Questo studio inoltre supporta l'ottimo profilo di tollerabilità della darolutamide in senso di non aumento della tossicità e non interazioni negative con il trattamento chemioterapico proponendo la darolutamide come nuovo standard di trattamento per il tumore della prostata metastatico alla diagnosi.